Dalla Lombardia passiamo al Veneto perché ieri il Presidente della Regione Luca Zai ha presenziato all'inaugurazione di uno dei punti della viabilità regionale che erano attesi per quanto riguarda la realizzazione delle nuove infrastrutture, la Rotonda di Quarto D'Altino. Nell'occasione il Presidente Zai ha parlato anche della crisi dell'Elettrolux, un polo particolarmente importante per l'occupazione del Veneto. C'era per noi Marco Bressanelli. La nuova filosofia è quella di aprire subito le strade e darle ai cittadini in modo tale che la sicurezza sia una sicurezza estrema è portata al minimo istante e è la volontà di aver anche mantenuto la parola rispetto alle opere complementari del passante. Questa è una delle grandi opere del passante. Notizie preoccupanti sempre di più da parte della Zanussi. Come diceva lei, praticamente è una Fiat che chiude qua a pochi chilometri della casa. Beh, per noi è come se chiudesse la Fiat. È la madre di tutte le battaglie, questo lo diciamo in maniera tale che tutti abbiano ben chiara com'è la posizione. Ho sentito anche ieri sera a Debora Seracchiani. Siamo assolutamente in sintonia tra governatori, ma anche la volontà di dire una cosa importante, che dietro a questa nuova appaventata riduzione del personale si nasconde fino in fondo, ormai lo si legge, la volontà di smettere del tutto la presenza di Elettrolux nei nostri territori. Così per noi non sarà. Capiamo le difficoltà del sistema paese che non è in grado di creare le condizioni fino in fondo, prova ne sia che Elettrolux ci annuncia nuovi insediamenti o nuove linee che vanno in Ungheria e in Polonia. Sappiamo di avere il 68,5% di tasse di media di pressione fiscale contro una media europea del 46%. Però non esiste che si metta in discussione la presenza di una realtà come questa nel nostro territorio. Noi faremo la nostra parte, la stiamo facendo, nel limite del possibile, visto che non abbiamo competenze di legge per fare nuove leggi o per fare interventi su cuneo fiscale che sono quelli che servono per la diminuzione della pressione fiscale e creare condizioni per che queste imprese resti qui. Dico solo che il governo dia un colpo di regno a profitti della legge di stabilità in discussione in questo momento in Parlamento per dare un grande segnale perché la ripresa dell'economia non la possiamo programmare quando tutte le imprese se ne saranno andate. E le Seracchiani fate fronte comune, quindi Veneto e Friuli. Chi altro si può tirare dentro in questa battaglia? Guardi, io e Deborah, il Presidente Seracchiani, siamo assolutamente in totale piena sintonia su questa partita e il problema del Friuli-Venezia-Giulia è il problema dei Veneti. Il problema dei Veneti è il problema del Friuli-Venezia-Giulia. Non ci stiamo alla guerra tra poveri. Non è che salvando i lavoratori di Susegana e facendo licenziare quelli di Porcia si risolve il problema o viceversa. Non vogliamo fare fronte comune e lo faremo fino in fondo.